Si fa duro lo scontro tra il comune di Cesena e la polizia locale. I sindacati di categoria hanno annunciato infatti uno sciopero dei vigili urbani per il 15 di ottobre, uno dei giorni più caldi per quanto riguarda l'ordine pubblico in quanto è attesa in città la tappa del Giro d'Italia. Il motivo della protesta riguarda la gestione delle festività infrasettimanali. La polizia locale lavora sulla base di turni che prevedono il riposo un giorno a settimana e un riposo aggiuntivo in caso di lavoro nelle giornate di festa come ad esempio il 2 giugno o Natale. Il comune di Cesena senza aspettare il rinnovo del contratto nazionale ha deciso di annullare il riposo compensativo. Ma facendo questa interpretazione i lavoratori si trovano improvvisamente i lavoratori turnisti a lavorare dalle 9 alle 11 giornate in più rispetto ai loro colleghi amministrativi e secondo noi questo non è possibile. Abbiamo detto che potessero aspettare il rinnovo del contratto nazionale dove avremmo trovato soluzione. Il comune non ha assolutamente aspettato questa proposta nostra e ha deciso unilateralmente di procedere. Per cui noi a questo punto abbiamo bloccato lo straordinario da subito e abbiamo deciso che faremo sciopero durante il Giro d'Italia per manifestare il nostro disappunto su questa decisione del comune di Cesena che qui localmente è l'unico comune che ha preso questa posizione. Lo sciopero sarebbe il 15 di ottobre quindi adesso ancora c'è un mese e mezzo ci può essere un'orgine di trattativa insomma. Sì ci può essere un'orgine di trattativa. Adesso ci hanno riconvocato come commissione consigliare l'unio di prossimo alle 6.30. Noi riparteciperemo alla commissione consigliare però il comune non ci ha fatto sapere nient'altro. A parte questa commissione consigliare che eravamo già d'accordo che ci avrebbero riconvocato per sapere se ne è successo qualcosa noi non abbiamo nient'altro.